Adesso torniamo alla musica, alla musica con un momento dove jazz e musica classica si sposano. Era successo già il primo settembre del 95 a Correggio, da cui è stato tratto questo cd, non andatelo a cercare, non è ancora distribuito, adesso verrà distribuito, forse, in ogni caso rimarrà per i posteri. Quindi, Engel, Gualdi, Andrea Criminelli, entrambi di Correggio su due strade diverse, c'era un altro che è Ligabue, che è dato una strada del rock, un giorno chissà, forse li riaduniamo tutti e tre su questo palco, Ligabue è venuto ieri sera a vedere il tuo concerto, forse... E adesso eseguono un duetto, flauto, clarinetto. Musiche di Engel, musiche di Engel Gualdi. Sì, un pezzo di Engel Gualdi questo, un pezzo di Engel Gualdi, un duetto per flauto e clarinetto, Engel Gualdi, Andrea Criminelli. Sì, un pezzo di Engel Gualdi. 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 Sì, un pezzo di Engel. 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 Sì, un pezzo di Engel Gualdi. Complimenti.